E il premio per la miglior sceneggiatura va a... Ma il titolo? Sì, leggi pure, cara. Olio di Antonino Scordia. E batti, batti la mano così, no? Non hai vinto il tenista. Bravo! Complimenti, Antonino. No, io non voglio annoiarvi oltremodo, ma un ringraziamento lo debbo alle molte straordinarie persone che hanno contribuito alla mia formazione, a cominciare dalla mia professoressa di italiano e latino, Pasciuto Maria Carla. Simpaticissimo, Antonino, grazie! Grazie, Antonino. Grazie. Grazie. Bravo! Grazie. 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 Grazie a tutti.